Senza Cristo è il nulla, senza Cristo è la morte, senza Cristo è l'Egitto, senza Cristo è la dura, durissima schiavitù al peccato, alla inconsistenza della nostra vita, delle nostre giornate, senza Cristo è il caos, perché il demonio ha il potere di ingannarci e trascinarci nel caos precedente alla creazione. Questa è la realtà di tutti gli uomini che non hanno conosciuto Cristo, che vivono senza Cristo, nel buio, nelle tenebre. Tu e Dio eravamo nelle tenebre come tutti gli altri. Tu e Dio, prima di incontrare l'amore infinito, il nostro Signore Gesù Cristo, l'amore superiore a tutto, il troppo amore, dice San Paolo, prima di conoscere, cioè di sperimentare intimamente il potere di questo amore infinitamente più grande del potere del demonio, eravamo nelle tenebre, nelle tenebre, e nelle tenebre non vedi, nelle tenebre sbatti, ti fai male, cadi, nelle tenebre non capisci nulla, non riconosci la verità, non sai distinguere il bene e il male, e prendi il male per bene e il bene per male, esattamente ciò che accade oggi nel mondo, è che è fonte di dolore, di sofferenza, di guerre, di aborti, di divorzi e tutti gli abomini che stiamo vedendo accanto a noi, dentro di noi, perché anche noi, quando dimentichiamo da dove siamo stati tratti, quando cominciamo ad ascoltare, a prestare attenzione, dare credito alle menzogne del demonio che ci interpreta la vita, di fronte alle sofferenze, di fronte ai problemi, di fronte a quello che ti ha detto tuo marito, di fronte all'atteggiamento di tua moglie al lavoro, alla malattia, alla precarietà, al licenziamento, di fronte alla crisi di tuo figlio, di fronte alla tua vecchiaia, alla tua impossibilità di essere autonomo, di fronte alla tua storia il demonio costantemente ti mente, ti parla e ti mente, cerca di trascinarti di nuovo nel caos precedente alla creazione. Per questo Gesù Cristo è venuto a ricrearci, a riportarci nella luce, a riportarci nella verità e la verità è il suo amore che non è venuto a giudicare né te né questo mondo, ma è venuto a portare la salvezza, è venuto a portare la redenzione, il riscatto, perché tutti gli uomini, tu ed io, apparteniamo al nostro Signore Gesù Cristo, Lui sulla croce ha dato il suo sangue per riscattarci, per farci ritornare ad essere quello che Dio ha pensato dall'eternità. Noi dovessimo essere Suoi figli amatissimi, immagine e somiglianza Sua, cioè amore, amore donato, amore offerto, amore regalato. Questa è la nostra felicità, amare e questa è la luce, perché se ami, se vivi nell'amore, ogni istante della tua vita è prezioso, ogni situazione della tua vita è un altare, un'occasione dove offerti con Cristo, perché così è stato ed è per Cristo con te. Ogni istante della tua vita, ogni evento della tua vita è un'occasione che il nostro Signore Gesù Cristo usa, sfrutta alla grande, offrendosi per noi, perché tu ed io possiamo conoscere questo amore infinito, l'amore nel quale siamo stati creati, ricreati, perdonati, trasformati, rigenerati per vivere nell'amore da offrire a chiunque accanto a noi. Grazie.